Questo stadio viene costruito fra il 25 e il 26 e quindi è il secondo ad essere inaugurato in Italia dopo quello di Torino ed è un simbolo chiaramente del regime di dare un'immagine di sé come appunto di una rivoluzione necessaria per ammodernare il paese e quindi rappresenta un'operazione di immagine, di propaganda, di consenso e anche un'operazione molto importante di fascistizzare la società attraverso lo sport. L'Aquila che sappiamo era il simbolo della grandezza dell'impero, della Roma imperiale che Mussolini voleva rifondare in questa Italia uscita stremata, dissanguata dalla Prima Guerra Mondiale. L'Aquila quindi è immediatamente leggibile come simbolo di questa ideologia totalitaria. Sono d'accordo perché sapevo che le statue tipo di Vialama e dei partigiani sono state fatte con il bronzo della statue del Duce a cavallo, però dell'Aquila sinceramente non lo sapevo. E no, allora forse non era molto il caso di tenerla, dai, non lo so, io ora vedo un po', sono molto critico su tutto quello che è un ricordo del tempo fascista, di tutto quello che è una rivisitazione anche semplicemente del fascismo in tutte le sue forme. Mi sembra proprio apologia del fascismo questa. Ma secondo me per quanto riguarda l'architettura, sono memorie storiche che devono rimanere. Abbiamo tanti esempi di architettura fascista in giro per le città e anche esempi di cose ben fatte, non tutto deve essere rinnegato. L'importante è che abbiano tolto via la strada di Mussolini, che abbiano fatto delle sculture molto diverse, no? Perché sono la vita dei partigiani. Però se è un'Aquila, allora vi dovrebbe togliere via anche le Aquile Romane, se fa parte di un pezzo di storia, ecco, io la vedo così. Penso che tutto vi dovrà tenere sia nel negativo che nel positivo, la storia è la storia. Sicuramente è un modo per ricordare chi l'ha fatto, già per me è troppo, ecco, già non va bene. Se invece c'è addirittura un po' di nostalgia è ancora peggio. La storia di Arp Advice, questo allenatore ungrese, che era considerato un eroe in tutta la Bologna di allora, raccolto dalla Bologna fascistissima come un eroe, dalle 38 in poi, per le leggi razziali, proprio perché era ebreo, diventa improvvisamente un nemico. L'Arp Advice, la memoria di fianco, è la memoria di chi in nome di queste ideologie ha subito la privazione dei diritti e poi la privazione delle vite. Quindi io ritengo che il luogo, proprio per questa conflittualità che la storia e le memorie rappresentano, è giusto che li abbia entrambi. Dunque, la targhetta è stata fatta ultimamente. Credo che sia passato neanche un anno che hanno pensato di fare questa targhetta per dare prestigio a questo allenatore che effettivamente fece del bene, diciamo come il presidente Dall'Ara, fece del bene al discorso come calcio, parlo del calcio di Bologna. Però se l'ha messo lì non ci ho fatto caso a livello del discorso dove è questa targhetta. Però so che è stato fatto, conosco il motivo perché l'hanno fatta e mi sembra che sia molto giusto. Mi sembra un po' paradossale che sotto l'aquila fascista ci sia. È una cosa abbastanza ambigua e contraddittoria. I simboli diciamo siano vicini, cioè la statua, l'aquila e la targa di Harp Advice ritengo che sia giusto. L'Ara è una figura molto importante del fascismo bolognese, un uomo molto potente, un fascista della primora e Bologna proprio per questo riceve dal regime de Mussolini una serie di attenzioni, di opere pubbliche, di abbellimento. Il nome, anche il nome importante, si chiama ancora come questo personaggio fascista. Forse, ecco, chiediamoci se anche su questo non sia il caso di chiederci come mai.